Sotto la direzione artistica di Franco Mannella, regista, attore e doppiatore e voce di moltissimi attori e personaggi, i luoghi di arotrone nella splendida campagna di Pianella, incontrata a Santa Scolastica, sono tornati ad aprirsi al pubblico. Tre saranno le tipologie di eventi in programma distribuite in tre diversi spazi di spettacolo. I concerti al tramonto andranno in scena sul palco Gran Sasso, un palco sospeso su una meravigliosa vallata con vista sulle colline coperte di Ulivi e il Gran Sasso sullo sfondo. La sezione racconti alla luna, che prenderà il via domenica 4 luglio, comprende la serie già inaugurata con successo lo scorso anno dei racconti della terra di Yurta, che si terranno presso la tenda di Yurta di Arotron, una magica tenda circolare ispirata alle tradizioni tende mongole situata a breve distanza dal palco. Era un lago remotamente, è stato prosciugato e da qui Arotron rinnova le sue proposte e crea in quel vecchio lago un anfiteatro di paglia. Da qui eventi teatrali e anche qualche concerto. Non è l'unico sito delle terre di Arotron, ma c'è il palcoscenico che guarda il Gran Sasso e c'è la tenda mongola, la tenda Yurta, che ospiterà racconti, reading, letture. Questa è la nostra proposta per la rinascita estiva e vegetativa, anche perché Kyuklos, che è il titolo di questa rassegna, è un omaggio alla natura, alla vita. L'idea è quella di caricarci un po' di questo flusso naturale che può arrivare da un luogo come questo e farci portare fino alla conclusione dell'estate con una serie di eventi che possono in un qualche modo anche accogliere tutti coloro che in un momento come questo, nella difficoltà di vivere il teatro negli spazi chiusi, possono comunque arrivare da noi in una condizione all'aperto, sotto le stelle o nei tramonti, questo dipenderà dagli eventi, e insieme comunque continuare a usufruire della cultura e cercare un modo per condividere esperienze. Gli eventi di Kyuklos sono ad accesso per i soci di Arotron, che possono fare il tesseramento Arci e quindi tutti quelli che hanno la tessera Arci, anche di Arotron, possono accedere a questi spazi. Gli spettacoli sono a pagamento, hanno un prezzo modico per la qualità degli eventi e la qualità dei luoghi.